La posizione del gruppo di Cannafal è molto categoria e la mia attrezza di lante è stato in SAC. Non è stata una sorpresa, il signor Reiter sta a confermare il SAC che è stato iniziato a una carta di abogato, perché è stato invitato a una riunione e in un contesto di abogato, naturalmente il SAC è stato con una traiettoria molto larga, in questione di abogato e la posizione del gruppo di Cannafal è molto solida, la maniera di una riunione con i latini, come mi chiede, non è stato iniziato a fare la prensa, la città, la città, la città, la città e lante è stato iniziato a fare il gruppo di Cannafal. Però questa posizione è molto forte e mi chiede che il Podere di Dio, se il santo juizio prevalece, e ciò è stato naturalmente per l'ogra di mettere due gruppi anche in una messa, mediante il triunfato anche con due settimane di tempo, mentre per dare una conclusione, un'avviso di chi è stato in direzione con i bianni e le persone che lo togono. Non è stato iniziato a fare una situazione di un cannafal con una porta di giella, tutte le sottose di discussioni, un bianni, ma ora che è stato iniziato a fare la città e la città, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi è stato iniziato a partecipare, e mi è stato contento che il cannaval è stato l'ultimo, come cannavalista, organizzare un gruppo, ma distanziamo, ma il gruppo di cannaval, di altre parti, non siamo mai parte del gruppo di cannaval, quindi siamo iniziati a prendere, grazie a Dio, una posizione più neutrale, per portare, semplicemente, a vedere chi è stato migliorato, per un aspetto principale della nostra cultura, del cannaval. Ora, se non è stata iniziata a fare la carta, come si non c'è apertura, manerà mi, lo big back, nel gruppo di legato, di gruppo, per convenzire nanti, non è stata un'quiesione di nante di questo, nante criteria, non è stata un'abili per nante particolare, ma non è stata un'abili per la nostra direzione, sin embargo, mi chiede la proposta, che voglio dare, per l'ultima, questa una, questa è stata una una, per avere la volontà, per bene un'unica e un'argo di aiutarza, e l'argo di una soluzione. Grazie a tutti.